Ok, siamo con Aldo Ferrari, primo gol in campionato, già avevi segnato in Coppa Italia, oggi un grandissimo gol. Bella prestazione, come vedi, come hai visto oggi? Sinceramente sono contento, ma anche per la prestazione della squadra e soprattutto per la vittoria. Perché era un mese che comunque anche giocando bene, un po' per errori nostri, un po' per errori nostri, abbiamo tirato insieme pochi punti. Quindi oggi ci eravamo detto di guardare oltre la prestazione, di puntare i tre punti, che comunque è quello che conta nel calcio. Quindi abbiamo fatto tre punti, abbiamo giocato anche bene, quindi abbiamo fatto anche un gol così. Chi segue la Gianna anche durante gli allenamenti sa quello che puoi dare e prima o poi ci aspettavamo la tua esplosione, oggi è arrivata, finalmente con un gran gol, voluto. Sì, ho cercato, secondo me. Comunque punto sempre a migliorare ogni giorno, ogni allenamento. Sono qua, sono sempre a disposizione, gioco uno al gioco, quando entro cerco sempre di dare una macchina. Sono contento, perché siamo veramente un bel gruppo, siamo tanti ragazzi, tutti sul stesso livello. Poi ovviamente c'è chi gioca di più, c'è chi gioca di meno. Comunque anche chi sta in panchina anche per un po' di tempo è sempre lì a sostenere la squadra e i compagni, quindi meglio di così non si può fare. Il mister dice un gran bene di te, ti invita anche a tenere qualche volta di più la palla. Hai ragione, ma forse è sempre stato un po' il mio difetto, se si può chiamare così, che cerco sempre la giocata di prima, magari rubare la prima palla avversaria così. E adesso devo cercare di migliorare appunto questa cosa, imparare a fare due tocchi, una palla verticale, questo parla, tenerla un attimo, darti in cui i miei compagni, devo lavorare anche su questa cosa. Adesso che ti sei sbloccato, ti pone un obiettivo di realizzazione durante tutto l'anno? Quello che viene, prendo tutto quello che viene, gioco poco, gioco tanto. Quando dentro, veramente anche se oggi non è stato felice lo stesso, perché comunque giocando abbiamo acquistato i tre punti, quindi sono contento. Ti sei inserito bene nel gruppo, sappiamo che ti adorano i tuoi compagni. Sì, vai, sai, io arrivavo ancora di lettanti, comunque pensavo di arrivare qua a trovare, arrivavo, dice, professionismo, invece, malgramente dal primo giorno che sono arrivato, mi hanno fatto subito bene, come hanno fatto quegli altri, e mi hanno fatto subito sentire parte della squadra, anche se comunque arrivavo dalla promozione, però mi hanno tenuto subito in considerazione. Sei un ragazzo umile, lo sappiamo, ma diciamo che per quanto riguarda le prestazioni ti vedremmo molto bene, sempre in campo. Ti vorresti bene, sì. Sempre in campo ti vorremmo. Ah, va bene, ma va bene così, quando serve io entro, faccio la mia, poi gioco bene, io ancora meglio, e se faccio gomme io pure. Hai una dedica particolare per questo bellissimo gol? Ma la dedica particolare al gruppo che mi ha fatto sentire subito il caso, ovviamente, compresa tutta la società, e i compagni quelli dell'anno scorso, anche comunque se sono qua, è anche grazie a te. Va bene, grazie. Grazie a te. Grazie.